Virtù è parola che nel greco antico viene resa con il termine arete, ed è interessante sapere che tutte le parole che cominciano per ar come artista, artigiano, hanno esattamente questa comune radice, cioè virtuosa. Infatti l'artigiano è un virtuoso, così come l'artista è tale. Perché oggi la virtù è tornata al centro delle attenzioni? Perché si è scoperto che dopo oltre due secoli di avanzata e di dominanza culturale dell'etica utilitaristica, e l'utilitarismo è un'etica, si è capito che l'etica delle virtù, che ha il suo fondamento nella Grecia antica in Aristotele, Socrate e Aristotele, oggi torna ad essere al centro delle attenzioni, perché ci si è resi conto che senza la vita virtuosa certi tipi di problemi non si risolvono. È ridicolo che certi economisti pensino di risolvere i problemi delle nostre società invocando il paradigma utilitaristico. No, perché buona parte dei problemi di cui oggi soffriamo sono dovuti proprio all'etica utilitaristica. Ecco perché si assiste ad un ritorno dell'etica delle virtù. E l'idea base dell'etica delle virtù è che cos'è la virtù? La virtù è nient'altro che un atto buono ripetuto tante volte. Perché ai bambini piccoli si insegna a mangiare con la forchetta e con il coltello e non con le mani? E il bambino all'inizio lo deve ripetere, quando l'ha ripetuto n volte diventa spontaneo. Così è della virtù. Se noi educhiamo le persone a certe pratiche di vita individuale e sociale, queste poi diventano un habitus, cioè qualcosa che viene spontaneo. Quindi non ha bisogno la virtù di essere inculcata, ha bisogno però di testimoni, cioè di qualcuno che testimoni con il proprio agire, con la propria vita, che la pratica delle virtù è una pratica che genera sicuramente felicità su un fronte e progresso umano integrale sull'altro.